Bentornati. Bentornati a edile.com. Iniziamo parlando di IPLE, delle attività e delle novità che riguardano proprio l'Istituto Professionale Edile di Bologna, novità didattiche che comunque ruotano come sempre attorno alla formazione, a una buona formazione in campo edile e all'importanza della sicurezza in cantiera. Bentornati a edile.com. Le capacità tecniche, della tecnologia, ma che prima di tutto è un tema collegato alla cultura, a saper produrre una cultura della sicurezza, a generare una sensibilità nei lavoratori sulla sicurezza. Tutto questo è possibile con l'attività che noi svolgiamo ormai da tanti anni perché in una qualche misura la formazione riesce a velocizzare i processi, anche nel concetto di rispetto per intenderci, che è un rispetto che quando si lavora deve essere verso se stessi e verso gli altri e verso l'ambiente. Tutto questo viene sviluppato attraverso attività formative rivolte ai lavoratori, come dicevo, ma anche ai futuri lavoratori. In questo senso Iple oggi è alla soglia di un grande cambiamento. Noi abbiamo ottenuto sostanzialmente un altro corso IFP e abbiamo ottenuto anche una novità importante che è il famoso quarto anno di istituzione e formazione professionale che li può portare a diploma. Cosa cambia in Iple? Beh, innanzitutto passeremo da una quarantina di ragazzi a 100-120 ragazzi, quindi dai 15 ai 17 anni, che vengono a studiare nella scuola da qui al 2025. Questo ha comportato chiaramente delle modifiche, quindi un aumento e uno sviluppo della didattica, un ampliamento del corpo docente, un ampliamento del personale, un ampliamento strutturale. In questo momento noi stiamo per avviare dei lavori al nostro interno strutturali per aumentare le classi. In attesa che queste classi siano pronte abbiamo preso delle strutture temporanee. Tutto questo ribadisco per insegnare un mestiere, ma insegnarlo in una determinata maniera, quindi un mestiere che comporti la formazione anche della persona. Parliamo adesso di un programma di prevenzione del rischio, specificatamente per le cadute dall'alto in cantiere, che vede coinvolto l'Istituto Professionale di Ledi Bologna e altri enti di formazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Vediamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio e ascoltiamo alcune voci di chi è direttamente coinvolto nel progetto. Il piano mirato significa che è stata fatta un'attività di formazione, di preparazione di materiali da parte di un gruppo regionale edilizia. I materiali prodotti sono un faldoncino, un librettino con delle schede pratiche in cui sono segnati delle indicazioni, delle buone pratiche, cioè quindi delle cose da fare nel cantiere, nell'ambiente di lavoro. Possono essere indicazioni per mettere a posto le cose, ma possono essere anche indicazioni per valutare qual è la situazione nel mio ambiente di lavoro, in maniera da poter poi prendere le misure e i provvedimenti. In particolare riguarda il lavoro in altezza, quindi ponteggi metallici, parapetti, dispositivi di protezione individuale anticaduta. Questo progetto riguarda soprattutto le micro, piccole imprese e i lavoratori autonomi. Verranno presentate queste schede, questi materiali da utilizzare nei cantieri e poi da restituire, se possibile, se le aziende ritengono di volerlo fare, compilati, in maniera appunto anonima e volontaria, per poter poi appunto trarne dei dati che possano essere utili ai cantieri stessi. Il piano mirato in generale prevede una intensa attività di assistenza da parte delle unità operative, prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, che si affianca all'attività di vigilanza. Quello che ad oggi ancora non è ben chiaro per tutte le persone, tutti i lavoratori che operano all'interno di un cantiere, sono appunto le figure della sicurezza del cantiere stesso, banalmente la committenza, banalmente il coordinatore dei lavori, banalmente il punto responsabile dei lavori, ma anche gli addetti alle emergenze, quindi gli addetti al primo soccorso e alla squadra antincendio. Non vi è consapevolezza di chi è presente in cantiere e chi è incaricato, in termini di sicurezza, di garantire, di attuare, di realizzare un'azione in termini di sicurezza efficace. La sicurezza non si realizza da soli, la sicurezza è frutto di collaborazione di tutti noi. E adesso dalla fiera Ambiente e Lavoro parliamo ancora una volta di sicurezza in cantiere e lo faremo parlando dell'importanza di una buona formazione che passa attraverso le scuole edili e nello specifico di un importantissimo strumento proprio per la prevenzione, l'esoscheletro. In un contesto come questo, di una fiera che si occupa della sicurezza sul lavoro, ovviamente sono presenti tutti i settori produttivi. Noi siamo degli edili e in qualche modo le nostre scuole hanno il compito di tradurre, di fare da ponte, tutta questa tecnologia, tanta tecnologia che sta arrivando appunto da varie parti e che può essere un validissimo aiuto per il nostro settore. E noi abbiamo come ruolo proprio quello di trasmettere questa conoscenza, a volte anche generalizzata e generalista, sul mondo degli strumenti, strumenti digitali ma anche tecnologia nuova per la sicurezza in edilizia. Proprio perché le nostre scuole sono il luogo dove le persone devono essere prima di tutto informate sulle novità e poi pian piano formate anche su filoni specifici in modo che siano in grado poi di assorbire questa tecnologia, di utilizzarla in maniera consapevole e di farne uso appropriato proprio per migliorare le condizioni di sicurezza. Perché poi ricordiamoci sempre, il nostro vero obiettivo quando parliamo di sicurezza nel settore edile è diminuire gli infortuni. Tutto ciò che va bene per diminuirli va bene, anche la tecnologia è un validissimo aiuto, non è l'unico, non ci risolverà mai il problema, anzi a volte la tecnologia rischia di essere una specie di boomerang se utilizzata in maniera non consapevole e corretta, ma è uno strumento e ne dobbiamo tenere conto e diffonderlo anche nel nostro settore. Le scuole di lì, dopo la fusione con gli enti, con i CTP, quindi anche sulla sicurezza, hanno due missioni fondamentali, una rimane quella della sicurezza, della consulenza alle imprese per tutto quello che concerne appunto il settore degli infortuni e delle malattie professionali e dall'altra è quella della formazione professionale che è orientata su due punti, una la parte operaia in cui abbiamo nuovi prodotti e nuove tipologie e quindi abbiamo bisogno di collegare l'industria della produzione all'industria dell'installazione e dall'altra siamo rivolte ai tecnici, quindi rivolte agli ITS e quindi alla formazione superiore post diploma. Questi diciamo sono i due ambiti sulla formazione importanti che in qualche modo le scuole in Italia dovrebbero perseguire. L'importanza della scuola di lì per la sicurezza è fondamentale, noi siamo l'unico settore che ha attinto alle proprie risorse perché ha capito che c'era un problema in più rispetto ad altri settori. È una tradizione che va mantenuta, va incrementata e soprattutto va fatta conoscere a tutte le imprese impegnate nel settore. Secondo noi un'impresa incurata dal settore bilaterale è un'impresa molto più sicura di quella che è fuori dal sistema bilaterale. Sia sulla formazione che sulla sicurezza abbiamo oggi a disposizione tanta tecnologia. Dobbiamo riportarla all'interno delle nostre scuole, siano i simulatori, la realtà aumentata. Progetti su cui le nostre scuole sono già impegnate, dobbiamo svilupparli di più e dobbiamo rendere accessibili a tutti e soprattutto coinvolgere in questo processo lavoratori ed imprese che troppo spesso arrivano tardi all'appuntamento con la tecnologia. L'utilizia, una delle problematiche principali che ci sono, sono proprio le malattie muscoloscheletriche che sono dovute appunto a sollevare carichi. Una cosa banale finché vediamo, ma chi lo prova e lo fa tutti i giorni in cantiere sa cosa significa tirare su centinaia di sacchi di cemento. Questi sistemi sono sempre più raffinati. Questo è appunto tramite sensori, permette di gestire, di calibrare anche l'aiuto che lo strumento dà e quindi aiutare per esempio in questa posizione. Devo stringere però. Tendenzialmente l'operatore quando ha dei pesi ha la possibilità avvicina al corpo. Non solo le braccia, quindi varie tipologie legate agli sforzi nel sollevamento di pesi, ma anche la schiena completamente libera. Vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre vi do appuntamento, prima ancora che alla nuova puntata di edili.com, sulle pagine social dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, dove troverete sempre novità relative ai corsi di aggiornamento e formazione promossi appunto dall'ente e anche in generale sul mondo dell'edilizia. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di edili.com. Grazie a tutti.